In questo e in prossimi incontri vogliamo approfondire una tematica che sta a cuore a molti italiani ed è quella della medicina ambientale, ovvero sia di come approcciare tutte le tematiche che ogni giorno ci vengono proposte dai media, spesso e volentieri in forma urgente, inquinamenti, abbiamo avuto tante e tantissime informazioni ahimè non troppo confortanti negli ultimi anni e negli ultimi mesi, vogliamo affrontarle oggi in un modo più pacato per portare a conoscenza il pubblico di quelle che sono delle metodiche, dei protocolli che possono essere applicati per andare incontro alla salute e al benessere degli individui che si trovano sia in zone disagiate sia in zone meno disagiate ma che possono anche a loro insaputa andare incontro ogni giorno a un lento, mettiamolo tra virgolette, avvelenamento dovuto a fattori ambientali. Che cos'è la medicina ambientale? La medicina ambientale è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie che possono essere messe in correlazione con i fattori ambientali. La medicina ambientale è un settore multidisciplinare che abbraccia alle volte anche solamente sfiorandole alcune scienze come le scienze biomediche, le scienze dell'ambiente, anche le stesse scienze giuridiche, le scienze economiche, le scienze politiche sociali, le scienze biologiche, insomma fino a arrivare alla scienza, alle scienze dei materiali, alle scienze delle costruzioni. Questo per quale motivo perché nel caso per esempio delle scienze dei materiali o delle scienze delle costruzioni il danno alla salute ambientale, alla salute, alla medicina, diciamo la salute degli individui e quindi rientrando nella medicina ambientale è dovuto per esempio a materiali di costruzione scadenti che liberano nell'aria sostanze tossiche all'interno delle nostre abitazioni e all'interno per esempio dei luoghi di lavoro o quant'altro. La medicina ambientale può essere definita il ramo medico di un più ampio campo di intervento che è quello della salute ambientale che a sua volta è parte della salute pubblica e che cosa studia la medicina ambientale? Studia le interazioni tra l'ambiente e la salute e in che modo e in che forme l'ambiente può mediare o causare malattia. Facciamo pochi esempi perché quando si parla di salute sono tutti sempre sull'attenti giustamente e quando si parla di ambiente altrettanto. La medicina ambientale come abbiamo detto è una medicina prevalentemente preventiva che si basa su un certo tipo di diagnostica. È una medicina che dovrebbe e vorrebbe coinvolgere le istituzioni, i media e anche la popolazione per informarla su quelli che sono i corretti stili di vita, le possibilità di ridurre il rischio del fattore ambientale. Abbiamo detto prima la qualità dell'aria ma non solo, c'è la qualità dell'acqua, abbiamo l'avvelenamento da metalli pesanti come da mercurio piuttosto che da piombo e uno dice sì ma dove mi posso avvelenare? Beh le risposte sono sono molto semplici, noi consideriamo che gran parte dell'avvelenamento da mercurio deriva dalle otturazioni odontoiatriche di vecchia maniera e gran parte dell'inquinamento da piombo deriva dai dai carburanti a base di piombo e anche da qualcosa che noi possiamo considerare amico, ossia l'impianto idrico di casa nostra perché tubature non di ultima generazione possono rilasciare nell'acqua che noi utilizziamo per alimentarci, per lavarci o semplicemente per berla delle percentuali significative di piombo e tutto questo nel corso dei mesi, nel corso degli anni provoca un avvelenamento. Ecco che quindi sapere, essere informati e avere dei protocolli di prevenzione sia per quanto riguarda l'alimentazione sia per quanto riguarda la capacità che ognuno di noi può avere nell'affrontare conoscendo quindi scientemente l'ambiente che lo circonda, la medicina ambientale può diventare un presidio importante per andare incontro alle esigenze di tutti noi nello stare bene, nel vivere meglio, nel vivere più a lungo.